Siamo 918 pubbliche assistenze, ma soprattutto 89.000 volontari a D e 2.592 volontari in servizio civile più di 3.000 dipendenti 350.000 soggi noi facciamo soccorso ma anche emergenza e urgenza e trasporti sanitari protezione civile facciamo anche formazione sanitaria cooperazione internazionale facciamo anche attività culturali tenso corso servizi sociali nei centri diurni il 2017 è stato un anno molto lungo a Reass abbiamo portato 499 partecipanti a 10 corsi di formazione 371 partecipanti a Torneo RGP ma abbiamo fatto cose belle anche nel resto del mondo abbiamo fatto 5 progetti di cooperazione internazionale in 3 paesi abbiamo adottato 13 bambini c'è stata la riforma del terzo settore poi c'è stato io non rischio eravamo 600 volontari in 46 piazze con 116 pubbliche assistenze al meeting eravamo 540 volontari e 92 associazioni registrate abbiamo fatto le selezioni per il contest 65 volontari in 10 squadre da 5 comitati e ha vinto la Liguria ecco questo è un anno di noi è un anno di noi